Sì, 630 metri No, scusami, 593 Io, cos'è che ci sta sparando? Guarda, ho visto muovere le braccia Ci sto provando anche io, ma con una K74 a questa distanza Figurati Oh, l'ho preso Bella Daniele ha preso l'elicottero e ho preso l'omino, siamo felici Grandi E adesso... Oh, ma dove sta sparando così tanto? Presi 2 Bella, eri tu, meno male